Sarà pronto sicuramente prima del decennale del terremoto il Maxi, che sorgerà a Palazzo Ardinghelli, che sarà pronto in estate. La volontà, ha detto il segretario generale della Fondazione Maxi, Pietro Barrea, è di aprirla appunto prima del decennale del terremoto, lo ha detto in occasione di Officina L'Aquila, Incontri Internazionali, la rassegna dedicata al restauro e alla rigenerazione urbana e alla rinascita dei luoghi colpiti dal terremoto, promossa e organizzata da Carza, in collaborazione con Ance Abruzzo, Ance L'Aquila, Ance Chieti, Ance Pescara e Ance Teramo. In estate dovrebbe essere pronto Palazzo Ardinghelli a Piazza Santa Maria Paganica per poter ospitare il Maxi. Le procedure per l'avvio del museo sono iniziate, circa 2 milioni di euro l'anno da qui al 2024 per far vivere il Maxi all'Aquila, ricordato Barrea. Gli aspetti amministrativi sono tutti conclusi, la scadenza è obbligatoria e indiscutibile, al decennale del sisma dovrà essere pronto il Maxi. Il Maxi Aquilano però non dovrà essere soltanto un museo di cose, ha detto Barrea. I tempi direi sono questi, noi abbiamo un obbligo morale che dobbiamo mantenere a tutti i costi di essere pronti e funzionanti per il decennale e ce la faremo. I lavori sono ancora in corso, li sta svolgendo in modo eccellente il Ministero dei Beni Culturali, le realtà territoriali del MIBACT. Proprio l'altro ieri, veramente è una questione di ultime ore, si è perfezionato l'aspetto giuridico-burocratico, cioè la formalità dell'affidamento al Maxi. E noi stiamo lavorando, stiamo lavorando, stiamo lavorando per la programmazione e per aprire il migliore dei modi. Io non dico altre date ma prima del decennale dobbiamo essere pronti. Il Maxi in realtà per sua natura è un museo che attrae visitatori da fuori, da ogni parte del mondo. Ed è questo uno dei valori aggiunti che vorremmo portare all'Aquila. Il secondo aspetto è che il Maxi non è un museo come ce lo immaginiamo, cioè un posto dove ci sono cose belle da vedere. Naturalmente ci sono pure cose belle da vedere e vogliamo portare all'Aquila cose bellissime da vedere. Ma è un luogo dove si fanno cose. Dove per esempio ci sono tanti ragazzi che fanno il percorso di alternanza scuola-lavoro. Dove per esempio ci sono laboratori in cui bambini ed anziani si coinvolgono nel produrre cultura. Grazie.